Così immagino? Poi dipende E' troppo concentrato Troppo concentrato Arrivare Oh è veramente Veramente dolore Ma io sono sempre più curioso di vedere come i nostri amici arrivano sulle loro imparcazioni E vuol dire che Candice non c'era il nostro figlio Anche i miei altri figli non sono male Devo vedere simpaticissimi La identificazione con i misi Vicepresidente Con il nostro figlio Stigante